... Terza serie, la partenza. Ilaria De Marchi alla 1, alla 2 Caterina Marina, alla 3 Luna Bizziato, alla 4 Giorgia Vidotto, alla 5 Melissa Trevisio, alla 6 Reana Franzo, alla 7 Emma Cheberle, alla 8 Giglio Maria Maccari. ... 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